Insomma io volevo uno dei più giovani invece mi ha detto no, viene il padre anche dopo lo spettacolo, senti Claudio, è uno spettacolo che alla fin fine siccome si anche si viaggia, si gira tanto, alla fin fine per certi versi che è un po' più vecchiotto comunque fa veramente il padre anche nella vita della compagnia. Sì, è così, avviene anche questo, il nostro è un gruppo molto coeso però c'è questo salto generazionale tra i giovani, il gruppo dei giovani attori tutti straordinari a mio potesto avviso ma con il padre che è un personaggio appunto invece che porta sia sul palco che diciamo nel lavoro di gruppo questa l'eterna lotta tra le generazioni dei padri e dei figli, generazioni che ovviamente si fanno lotta ma poi si amano anche, ci si ama e si si odia nello stesso tempo. Senti, in una realtà dove molto spesso fa più effetto gli effetti speciali che non altro e magari la trama e la storia restano un po' così inseparata, così non si guardano molto i dettagli e qui invece coreografia semplice e tanto lavoro di impegno. Cioè proprio la gente ci raccontava che ovviamente vi è stato, si vedeva proprio come se voi vi veste proprio lì, cioè eravate veramente lì. Mi fa molto piacere che tu lo voglia segnalare perché è stato l'obiettivo del nostro lavoro di gruppo cioè quello appunto di costruire un meccanismo che diventi ovviamente poi paradigma per tutte quante le problematiche sul mondo del lavoro però è un meccanismo dal punto di vista teatrale di grande semplicità ma anche di grande efficacia credo proprio perché rappresenta il contrasto fra i due punti di vista, quello appunto dei lavoratori e quello di chi organizza invece. Ma te è il primo spettacolo di questo tipo che poi è anche brutto chiamarlo spettacolo, io lo chiamo così ma non è bello. No, 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 io ho un curriculum piuttosto lungo però di questo genere così asciutto, così preciso, così determinato nell'esporre la questione credo che insomma è uno dei pochissimi e quindi sono molto contento di essere stato parte di questo lavoro. Essendo un bel gruppo pensate di continuare poi questa esperienza assieme? Lo spero, io me lo auguro sicuramente, ci sono già progetti per gli anni successivi con alcuni e quindi sicuramente proseguiremo l'esperienza. La verità vuoi diventare Nondo? Anche, sì, sempre in teatro però. Anche, sì, sempre in teatro.